Dall'alba di stamane la Guardia di Finanza sta notificando ordinanze di custodia cautelare a imprenditori, professionisti e dirigenti del Comune di Bari, nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo dei parcheggi sotterranei di Piazza Cesare Battisti e Piazza Giulio Cesare, scattata dopo un esposto fatto quattro anni fa. Tra i venti arrestati, tutti posti agli arresti domiciliari, ci sono i fratelli Daniele e Gerardo De Gennaro, proprietari del gruppo DEC, una delle più importanti società di costruzioni del capoluogo pugliese. L'accusa per i titolari della DEC sarebbe quella di aver ottenuto agevolazioni e linee preferenziali da parte dei tecnici del Comune di Bari. Tra gli arrestati ci sarebbe anche il capo dell'ufficio tecnico del Comune del capoluogo pugliese, Anna Maria Curcuruto. L'inchiesta è stata condotta dai PM Nitti e Pirrelli.